Amici di Sport Channel, benvenuti nel 2020 del Grotta! Diciottesima giornata o prima di ritorno che dir si voglia a Grotta Minarda arriva il Vico e Quenze di Mr. Ferraro c'è un fortissimo vento che può forse condizionare il match ma il Grotta di Mr. Giuliano vuole continuare sulla scena di successi andremo a viverci insieme Grotta Vico e Quenze Adelante Grotta, partiti sul pallone Volzone con il Mancino diciamo che ha giocato come falso e nuove in questo scorcio di campionato o meglio in questa metà che è andata già via, guardate il vento come si posta il pallone Vediamo se adesso Volzone lo tiene a bada mentre il regime Red Lions è già partito con i cori Muccio in aria Ancora Volzone deve però sistemare il pallone Palle in mezzo, interessante, gol del Grotta con Volzone Subito in vantaggio, al secondo minuto Grotta 1, Vico e Quenze 0 Euro goal di Volzone Questo ragazzino, Sannino, palla sul sinistro È una telefonata A prolungare, guida Sembra avere la colla attaccata al piede, guida Arma il destro, lo prova Palla alta Palla dentro, guida Prodezza di Romano Sul tocco di Variale Fusco Sale il casino, lo vede Fusco con la cotta dell'occhio Può provare il cross Bello Sulla testa di Cataruozzolo Che si divore il gol Del 2 a 0 Palla dentro La testa di Variale La palla resta lì La ciccono un po' tutti poi Brogna Alza la testa, dall'altra parte c'è Fusco, la palla è per lui Anticipa anche Munao E non trova la porta Alla rimessa 1 e 2 I fischi di Della Corte A San Cine Alla fine del primo tempo Grotta 1 Vigo e Quenze 0 Sono passati per due minuti Per il gol di Volzone Per portare il Grotta in avanti A risentirci fra un quarto d'ora circa Per la ripresa L'ante Grotta ripartite Palla dentro sulla testa Proprio di Gargiulo Brividi lungo la schiena E non solo per il freddo Per il Grotta Alla dentro Per il Cattalutro La torre Per Petrone La palla è sui piedi di Fusco Lamento un tocco di braccio Fusco si gioca Sannino Supera Russo Supera Casillo Però Volzone Siamo già dall'altra parte Volzone fa salire Molto bene Casillo È un trenno Casillo Parte il cross Sulla testa Di Cataruozolo Che fallisce L'appuntamento Col 2-0 Carga il cross Lo effettua Sulla testa di Volzone La palla resta lì Martone poi In qualche modo Si rifugia in calcio D'angolo Uscita a vuoto Di Munao Sulla la barriera Schettino La palla termina Di poco alta Sospiro di sollievo Romano Palla in the box Conti Russo Lillo Può involarsi Non segue Martone Con le ultime energie Russo Lillo È più veloce Porta spasso Il palone Il più lottato possibile Spide Gonzales Russo Lillo Non c'è fallo Non fischia ancora Della corte Ma il recupero è scaduto Bravo Qui Volzone col corpo Poi Russo Brogna Russo Lillo Palla fuori Rimessa Vichequenze Subito con Reale Schettino Palla ancora in mezzo Per Martone Colpetto Sannino Ancora Castro Fischio la bocca Per Della corte Uno Due E tre Il grotta Conquistato Il punto di platino Fatto fuori Anche il Vichequenze Bastano due minuti Per Giuliano E Sochi Per conquistare E scalare la classifica Tre punti importanti Sannino